Buona domenica a tutti, oggi parleremo di un aspetto di cui qualcuno ha già affrontato negli ultimi giorni, in maniera sicuramente più autorevole di me, alcune ripercussioni. Nei giorni scorsi sapete infatti che la Procura di Bergamo ha inviato un avviso di garanzia a Ranieri Guerra, che è stato protagonista di diversi video che ho ritenuto di realizzare in cui si denunciava un comportamento quantomeno opaco da parte del Ministero. Dovete sapere che venerdì si è tenuta un'udienza al Tar del Lazio, perché a fronte delle ennesime menzogne che vengono da quel Ministero abbiamo ritenuto di rivolgerci ancora una volta ai giudici trascinando i governi tribunali. Non potevamo fare diversamente, non lo diciamo con orgoglio, non lo diciamo con onore, perché per noi è una sconfitta nel momento in cui una forza politica, Fratelli d'Italia, siede in Parlamento, essere costretti a portare e a trascinare il governo, il Ministero in tribunale, il Ministero di Speranza, per poter avere la verità e per poter avere accesso a documenti che dovrebbero essere di tutti gli italiani. Quello che noi stiamo facendo non lo stiamo facendo evidentemente per Fratelli d'Italia, lo facciamo perché tutti gli italiani possano sapere che cosa sta accadendo e quindi per noi è stata una sconfitta tornare in tribunale dopo che il Ministero aveva già perso per avere dei documenti che credo essere molto importanti. A dirlo non sono io, parleremo con documenti ufficiali, parleremo con documenti e note del Ministero, parleremo con foto, immagini, aspetti abbastanza sorprendenti e sconcertanti. Partiamo quindi da questo documento. Vedete, questo documento risale all'11 dicembre 2020. Noi chiediamo, Marcello Gemmato e io chiediamo di avere accesso ai documenti della Task Force. Che cos'è questa Task Force, benedetta? Dovete sapere che la Task Force di che cosa si debba occupare la Task Force ne parla il Ministro Speranza in questo libro che ha ritirato nel giro in 24 ore, doveva essere rimesso immediatamente sul mercato ma non è più, mai più, stato messo in commercio. Lo dicono bene in un servizio le Iene che appunto spiegano che questo libro è sparito. È un libro che vale anche 2000 Euro, proprio perché ormai non si sa più. Che cosa dice Speranza? Dice, vedete qua, stanno arrivando tempi straordinari e strumenti ordinarie non basteranno. Nel Ministero ci sono competenze e conoscenze ma non sono sufficienti da solo per gestire una partita. C'è bisogno di un salto di qualità. È con quest'idea che il 22 gennaio istituisco per la prima volta la Task Force per il coronavirus. È un coronavirus evidentemente Covid-19 e poi parte elencando tutti i componenti a Task Force e conclude dicendo la Task Force si riunirà, vedete, la Task Force si riunirà alla mia presenza tutti i giorni alle 9 del mattino, senza eccezione alcuna. Chiediamo quindi di vedere i verbali in questa Task Force e con questo accesso agli atti ci rispondono dicendo che non ne abbiamo diritto. Ma non solo dicono che non ne abbiamo diritto, dicono che si è trattato di un tavolo di consultazione informale del Ministro della Salute, tanto è vero che non neppure sussisca un decreto ministeriale istitutivo. Avete capito bene? Mentre Speranza nel libro dice che è una rossa, è una rossa, è una roba importantissima e lì dicono è un tavolo informale, è un tavolo informale. È così informale che vi voglio far vedere adesso una cosa. Questa immagine è tratta, lo potete vedere, il presente file è originariamente pubblicato sul sito del governo, è riscontrabile su Wikipedia e lo potete vedere, vedete, febbraio 2020, il Task Force del governo italiano per contrastare il coronavirus. Quindi avete capito bene? È un tavolo informale, guardate il tavolo informale, questo è il tavolo informale, vedete c'è Speranza, le forze armate, i vari Scerpa, le telecamere, le piane, sembra la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti e questi guardate cosa hanno scritto, è un tavolo informale, cioè vi rendete conto? Ed è infatti, noi abbiamo detto ma ci state prendendo in giro, gli chiediamo di vedere questi documenti e ci dicono non ve li diamo, voi non avete diritto ad avere i documenti, vedete? E quindi andatemi nel tar, che vi rendete conto? Però, bella trasparenza, cioè dei parlamentari chiedono dei documenti per poter conoscere, per poter sapere, se non c'è nulla da nascondere, perché dovete nascondere questa roba qua? Cioè non è che sia, no, niente, andatemi al tar a prendere, è un tavolo informale, questo è il tavolo informale, guardate il tavolo informale, cavolo ragazzi, se non stavano l'ufficiale cosa succedeva? Cioè c'era, non so, i carri armati, e allora gli chiediamo di produrre, non ce li danno, e la cosa importante, vedete, è che in questi task force ci sono delle frasi molto importanti, noi abbiamo alcuni di questi verbali, e ce n'è uno in particolar modo dove viene detto, qui, che in risposta al generale delusi che dice, a inizio, vedete, della pandemia, ragazzi, ma qui c'è necessità di riuscire ad allestire dei percorsi omogeni per l'accoglienza delle persone che potessero essere eventualmente contagiate, ministero, e questo è un verbale del tavolo informale, registrato, ministero assoluto, oggetto, task force, va bene? Il dottor Giuseppe Ippolito Spallanzani dice, ma facciamo riferimento al piano pandemico, visto? Di cui è dotata di taglia, e di adeguarle alle linee guida appena rese pubbliche dall'OMS. Quindi in questo tavolo informale, viene detto, fate riferimento al piano pandemico, poi del piano pandemico non si parlerà mai più, ma è così informale il tavolo, è così informale che nella memoria di costituzione del ministero davanti al TAR. Guardate cosa dicono. Dicono, nello specifico, i monitoraggi e le considerazioni condivise all'interno delle attività della task force hanno contribuito alla valutazione che ha condotto l'emanazione alla notte del 31 gennaio, con cui il ministero ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione allo stato di emergenza nazionale. Cioè avete capito? Quei verbali che tengono nascosti, quei verbali che dicono essere il tavolo informale, quei verbali che non contengono nulla, rifaccio vedere il tavolo informale, hanno condotto alla dichiarazione dello stato di emergenza e lo dice il ministero, perché questa che vi ho appena letto è la memoria del ministero, avvocatura generale dello stato per il ministero della salute, nel ricorso contro Bignami Galeazza, contro di me, vedete? Ha condotto l'emanazione della nota del 21 gennaio. Praticamente questi documenti che stiamo chiedendo da mesi, perché li abbiamo chiesti a novembre, hanno condotto alla dichiarazione allo stato di emergenza che è l'architrave che si regge tutta questa baracca e non ce li vogliono far vedere, perché quando li abbiamo chiesto ci hanno detto non ve li diamo, andatevi a prendere il tavolo, non avete diritto di avere, appare affermarsi l'insussistenza e il diritto di accesso alla relazione etc. Ma vi rendete conto della gravità? Gli italiani non devono sapere su quali basi è stata dichiarata lo stato d'emergenza nella nostra nazione. Vi pare possibile? Allora lo dico chiaramente, ci siamo rotti le scatole, abbiamo già portato il governo in tribunale una volta, abbiamo vinto, il governo si è costituito contro noi, l'abbiamo richiesto dei documenti, non ce li è andati, abbiamo dovuto di nuovo, e lo dico guardate con amarezza, perché per un uomo di destra portare il governo in tribunale è una sconfitta, ebbene abbiamo riportato e ci dicono che quei documenti che chiediamo, un tavolo informale, l'avete visto, è il tavolo su cui si sono fondati i documenti in base ai quali hanno emanato lo stato d'emergenza e non li vogliono far sapere agli italiani. Allora alcune domande per il signor Speranza, Ministro visto che in aula non ho mai risposto, Torellino, dicevi, parlavi, non si capiva che cosa dicevi, la domanda che ti faccio è questa, perché non vuoi far vedere questi documenti? Ministro Speranza te ne faccio un'altra di domande, di che cosa hai paura? Se sei così convinto di aver operato bene, se sei così convinto di aver fatto il meglio, se sei così convinto di essere un fenomeno, perché non li fai vedere questi documenti? Però c'è un fatto che noi ci siamo rotti le scatole, e allora vi faccio vedere un'altra cosa. Questo, che adesso vi faccio vedere, è un esposto, vedete, alla Procura di Roma e lo dico molto chiaramente, visto che questo esposto noi diciamo tutto, tutto quello che abbiamo detto adesso, quello che riteniamo, vedete, tutto, ci abbiamo messo settimane, 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 settimane a scriverlo, abbiamo anche chiesto alcune cose sul piano pandemico, bene, ci si sono rotte le scatole e adesso questo esposto ci siamo appunto determinati e evidentemente lo mandiamo, lo mandiamo perché non ne possiamo più di questa omertà da parte del Ministero. E allora, caro Ministro Speranza, ci dispiace, perché evidentemente questa è un'altra sconfitta, ma non possiamo fare diversamente, perché se tu avessi ritenuto di collaborare, se tu avessi ritenuto nella qualche maniera di essere, come posso dire, dalla parte dei cittadini italiani, perché secondo noi ti stai comportando in una maniera che non ha un senso al mondo e scusate perché, bene, a questo punto questo è l'esposto e noi lo mandiamo, lo mandiamo in via perché ci siamo davvero rotti le scatole. E ci dispiace, Ministro, ci dispiace perché ci hai costretto tu ad arrivare a questa situazione, negando i documenti, non rispondendo abbiamo fatto decine e decine di interrogazioni parlamentari, non ha risposta una, lo dico a chi ci ascolta. È andato a Procure di Bergamo a dire delle cose e stasera ha guardato la trasmissione di Giletti, molto importante quello che ne emergerà, molto importante e poi siamo di nuovo punto a capo. E allora, caro Ministro Speranza, noi abbiamo adesso, pochi istanti fa, mandato tutto alla Procura perché questa è l'ulteriore dimostrazione del fallimento della tua gestione. Poi ci sarà anche chi ti stima, secondo noi dovrebbe essere invece spiegato per quale incredibile ragione ancora sei in quel posto, perché in una nazione civile non ti sarebbe stata neanche data la possibilità di dimetterti, saresti stato cacciato e invece sei stato riconfermato. Che cosa è strana che capita in Italia. Ah, una richiesta, diffondete perché nessuno farà sapere quello che sta capitando.